attenzione ragazzi attenzione arrivano indiscrezioni molto molto importanti Zirk Z potrebbe realmente arrivare alla Juventus a gennaio eh sì ragazzi non è una cavolata non è un semplicemente un titolo in cui poi dentro nel video non trovate niente di veritiero ma veramente Zirk Z potrebbe arrivare alla Juventus nel calciomercato invernale ora vi spiego il perché il per come tutti i dettagli la situazione e ovviamente la commentiamo insieme voi commentate io vi risponderò alle vostre domande o perplessità sulla questione mi raccomando una cosa però dovete farla per favore visto che non sto neanche così bene ma son qua da oggi fino a stasera compreso di live c'è questo video ce ne sarà un altro ci sarà anche la live vi ricordo soltanto di mettere un like un'iscrizione al canale condividete il video commentatelo e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i contenuti che usciranno da qui in avanti mi raccomando e ora vi lascio alla bellissima sigla vi accorreri per sempre in ogni cielo e in ogni mente vi accorreri per sempre nel nostro cuore eternamente il nostro cuore eternamente oh ragazzi 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 quanto mi piace esordire con certe indiscrezioni perché vi dico la verità il nostro su youtube è se lo vogliamo chiamare un lavoro per me lo è perché comunque ho una partita iva e quindi ho un'attività quindi per me lo è e quindi posso parlare di lavoro sì il nostro lavoro è come si dice pieno di soddisfazioni ma spesso e volentieri tali soddisfazioni vengono macchiate da una notizia che non va rispetto a altre nove che vanno quindi dobbiamo stare sempre attenti a mettere i puntini sulle i e a non dar per fatto delle cose che ancora non sono fatte infatti io con Zirk Z non vi dico che è fatta ma sicuramente ci sono ottime probabilità della riuscita dell'affare vi spiego il perché in maniera abbastanza precisa chiara ma allo stesso tempo sintetica perché non voglio farvi il pippone alla fine la notizia che volevate è questa voi nel primo minuto di video già sapete che Zirk Z a gennaio può arrivare alla Juventus la maggior parte non gli frega più del resto e quindi si guarderà solo il primo minuto per tutti voi che siete interessati anche alle dinamiche di calciomercato io vado dentro alla questione allora come stanno le cose Zirk Z è sempre stato un pallino di Tiago Motta la Juventus lo voleva il Bologna aveva fatto muro voleva quei soldi il Milan si è tirato indietro anche se non è mai stato diciamo così deciso il Milan a investire tali soldi arriva il Manchester United 40 milioni di sterline ne ha un poco meno 38 milioni di sterline mi pare o 36 più 9-10 milioni di euro di commissione agli agenti del giocatore e Zirk Z va a Manchester Sponda United questo è quello che succede fa l'esordio fa un gran gol entra e fa vincere la partita al Manchester da subentrato e poi il buio totale buio totale perché ancora il giocatore non si sta integrando non tanto con il calcio inglese ma con l'allenatore con l'allenatore dello United l'allenatore dello United purtroppo ha un problema non è buono parliamoci chiaro ne ha parlato così anche Cristiano Ronaldo e tanti altri giocatori che pian piano sono andati via dal Manchester lo United sta cercando un nuovo allenatore ma attualmente tra le spese di quello attuale e chi c'è realmente sul mercato si vacilla un po' e quindi non ci sono tutti questi sbocchi allora cosa si potrebbe fare per avere già nella prossima stagione un po' più di soldi il piano del Manchester è chiaro prendere quei giocatori che sono stati svalorizzati dall'attuale allenatore e mandati in prestito mandando in prestito uno Zirk Z con un prestito secco di vi faccio un esempio 5 milioni di euro al Manchester il Manchester si prende 5 milioni metà dell'ingaggio lo paga il Manchester l'altra metà lo pagherebbe la Juventus la metà della metà perché poi sono 6 mesi quindi un quarto dell'anno lo paga la Juve un quarto lo paga lo United e Zirk Z potrebbe Zirk Z come tanti altri giocatori nella lista che ha virtuale il Manchester United potrebbe andare a giocare con continuità soprattutto tornare in Serie A ma tornare sotto la guida di quel Tiago Motta che l'ha fatto esplodere in quel Bologna l'anno scorso fregando il posto poi anche nel percorso di Tiago Motta al Bologna fregando il posto ad Arnautovic clamorosamente doveva essere titolare inamovibile e poi è stato volato all'Inter Arnautovic Tiago Motta fa anche questo perché Tiago Motta lasciate stare ora a far giocare Vlaovic che è un'indicazione societaria perché va trovato l'acquirente bisogna metterlo in mostra in vetrina ma Tiago Motta Vlaovic non lo farebbe giocare lo difende esclusivamente perché quello si chiama marketing dobbiamo vendere un giocatore non possiamo spalargli merda addosso parlando proprio chiaro Zirk Zee farebbe al caso di Tiago Motta e al caso della Juventus ovvio è che in questo momento il Manchester United non aprirebbe al al prestito con diritto di riscatto ok perché cosa vorrebbe fare vorrebbe far mettere in mostra il giocatore alla Juventus poi arrivare alla fine dell'anno calcistico mettersi a un tavolo e dire bene te 5 milioni mi hai dato per il prestito io ti posso venire incontro ma noi abbiamo pagato x soldi per Zirk Zee a te ti rende a noi non ci ha reso tanto però visto che ha reso bene in Italia me lo riprendo e poi lo vendo alla migliore offerente se la Juventus decide di pagare la cifra che pattuirà con lo United bene altrimenti lo United facendo anche bene dal punto di vista economico farebbe un'asta perché se te oggi fissi un diritto di riscatto o un obbligo di riscatto ad oggi su Zirk Zee non puoi dare più di 30 35 milioni complessivo di tutto perché perché in mezza stagione ha fatto un gol e non fa mai nulla non ha fatto assist non ha fatto giocate chiave niente di niente il giocatore prende 6 milioni 6 milioni all'anno cioè contratto fino al 2029 da 6 milioni a stagione con opzione per la stagione 29-30 quindi ragazzi sono tanti soldi sono tanti soldi sono tanti soldi perché parliamo di 6 milioni 6 milioni sono lordi perché lui ne prende 3 milioni e mezzo ricordiamo sempre come vengono messi gli stipendi dei calciatori in Premier League che vengono sempre messi all'ordo quindi 6 milioni lordi 3 milioni e mezzo ragazzi tu lo puoi pigliare o ci pigli 4 Vlaovic 4 Vlaovic 3 Vlaovic e mezzo ma sarà possibile allora vi dicevo che se te lo vendi poi a 30 milioni col diritto di riscatto e metta la Juve in un girone di ritorno fa 15 gol e dici porca puttana si poteva vendere anche a di più però hai già fissato un prezzo quindi poi non puoi ritrattare invece se fai il prestito secco ti siedi dopo al tavolo quindi se alla Juve gli vanno bene metti 45 milioni bene altrimenti ti do una prelazione se no dici va bene 45 parto dalla base d'asta di 45 vedrai che qualcuno nel resto del mondo me lo prende oppure me lo tengo e se me l'hai valorizzato cambiando il prossimo anno allenatore mettendo dei soldi in più da parte lo United che non versa neanche in condizioni eccelsi a livello di bilancio potrebbe ricostruire la nuova squadra con Zirk Z titolare ecco io voglio sapere la vostra ragazzi su questo argomento perché è molto molto importante me lo sono abbastanza legato perché sono diverse settimane che mi raccontano di indiscrezioni su Zirk Z proprio ultima la telefonata di oggi pomeriggio anzi no scusate l'audio whatsapp perché se no poi è giusto dire le cose a me stanno perché non voglio poi la persona che sa che guarderà il video che mi ha detto tale cosa io l'abbia travisata no mi ha mandato un messaggio whatsapp un audio dicendomi che lo united avrebbe accettato la proposta della juventus di un prestito oneroso bisogna capire cifre del prestito oneroso capire la juventus vorrebbe il diritto di riscatto lo united vorrebbe solo il prestito secco come vi dicevo io e in più bisogna capire la percentuale di stipendio pagata dalle due società quindi arriva l'indiscrezione pazzesca nel pomeriggio di oggi mi raccomando voi ditemi la vostra nei commenti iscrivetevi al canale che è gratis lasciate un bel mi piace commentate condividete e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi contenuti mi raccomando fino alla fine forza juve fino alla fine gobo toscano perché il gobo toscano siete tutti voi spero che il video sia stato di vostro gradimento e noi ci vediamo al prossimo contenuto e alla live di stasera ciao